11 marzo 2018 Milano il cuore oltre la fede calcistica. Un uomo che unisce tutti i colori della serie trasformando le casacchie a strisce e quelle a tinta unita in un'unica maglia viola. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sin dalle prime ore della mattinata, ha regalato emozioni vere, non solo ai tifosi della Fiorentina, non solo agli amanti del pallone. Tanti piccoli gesti che, uno dopo l'altro, hanno reso unico il giorno dedicato a Davide Astori. Dagli striscioni al muro viola, nessuno muore fin ci vive nel cuore di chi resta. Ciao Davide, solo una delle tante scritte che i supporter della squadra viola hanno mostrato durante il pre-partita di Fiorentina Benevento. Anche gli ospiti non hanno voluto far mancare la propria dimostrazione di vicinanza, una piccola delegazione di tifosi giallorossi ha lasciato un personale ricordo a la, muro, viola, l dove tante persone, più o meno vicine al calcio, hanno impresso un segno del loro passaggio. Viola, l'ingresso in campo con la, 13 di Astori commovente l'ingresso in campo, g l'ingresso dei calciatori per il riscaldamento ha creato qualcosa di magico, entrano tutti in campo per il riscaldamento indossando la maglia numero 13 di Astori, uno abbracciato all'altro, viso rivolto alla curva fiesole, cuore pulsante dello stadio. E alle spalle un grande striscione, capitano per sempre, affiancato dalla maglia viola di Davide. Il video trasmesso sui maxischermi ha in sottofondo le note della canzone di Giovannotti, la terra degli uomini, di Giovannotti e termina con la scritta, grazie di tutto. Il minuto di silenzio, i palloncini viola, applausi e lacrime. Firenze, minuto 13 minuti, il Franchi si ferma. Coreografia e lacrime stop e gol, l'apice dell'emozione, tuttavia, stato toccato al minuto 13 della gara, la partita si ferma, la coreografia della fiesole si accende di passione, di amore, di ricordi. E l'intero stadio risponde, una curva tutta viola e la scritta in evidenza, Davide 13. E dopo 12 minuti, la Fiorentina passa in vantaggio con Vito Rugo, proprio il calciatore che ha sostituito il capitano nello scacchiere di mister Pioli. Il difensore sale in cielo, in alto di qualsiasi altro avversario, e insacca le spalle di Pugioni. L'esultanza fiera, petto in fuori e mano appoggiata alla fronte, come un militare di fronte al proprio superiore. Capitano mio capitano, sembra voler capire con la sua gestualità. Questo gol tuo?